Mi chiamo Valeria Bodanza, sono titolare di uno studio di Marte e Tendi Milano con cui seguo supporto Vesta, azienda marchigiana specializzata nel cristallo acrilico. Siamo felici di supportare TEDxBergamo in virtù di una straordinaria affinità con i valori fondativi di TEDx condivisi dalla Vesta. L'innovazione, la tecnologia al servizio delle comunità, dell'esperienza, della cultura, dell'intrattenimento e senz'altro il design che è il cuore dell'attività Vesta. Prevalentemente per la casa e l'abitare contemporaneo, l'interior design con cui è possibile realizzare progetti di comunicazione corporate ma anche display, shop fitting. Dalla giornata odierna ci aspettiamo di dare e ricevere stimoli, idee, cultura, proposte, opportunità e senz'altro di divertirci. Grazie, ciao!